Però poi arrivano delle multinazionali che spesso hanno un atteggiamento predatorio nei confronti dell'Italia, come si fa? È assolutamente così, ma ci sono casi come questo, ci sono in tantissimi territori, sono numerosissimi, i multinazionali che scelgono posizionamenti non per questioni di produttività o di vantaggi, ma posizionamenti per questioni logistiche. Quando cambia il loro operato, il loro coordinamento logistico, da un giorno con l'altro chiudono. Ci sono una marea di esempi di questo tipo, persone lasciate completamente allo sbando. Io rispetto a questa situazione vorrei aggiungerne due. Io quando sento parlare di ripresi della crisi economica, invito a fare un giro sui territori. C'è la gente alla fame, ma ce lo dice l'Istat, ci sono 6 milioni di poveri in Italia, gli anziani non mettono insieme il pranzo con la cena. Non è un'immagine da gufi la sua, non è eccessiva. Questi sono i dati reali, perché la storia dei gufi è la strumentalizzazione rispetto alla situazione reale che c'è in questo paese. Guardate, io voglio dire una roba anche sulla Fiat. Se ci viene detto che gli stabilimenti Fiat in Italia hanno le stesse condizioni dei competitor Fiat all'estero, a livello di produttività e a livello di regole contrattuali, posto che c'è vero questa cosa, e io non lo so francamente, la domanda è perché non hanno lo stesso salario allora? Perché gli operai della Fiat con le stesse condizioni degli operai della Volkswagen in Germania non prendono la stessa cifra?